Teenage Dreams in a Teenage Circus Running around like a cloud on purpose Who is a damn about the family you come from now? Allora, questa associazione, Cavalieri delle Poiane, è nata 12 anni fa. Per quanto riguarda affiliato con la FISE, ho preso dei brevetti da istruttore primo livello solo mondi inglese ci sta la periodistica del sentiero marino da Spiano che si va a Cetara diciamo è un vecchio tratturo che all'epoca i cetaresi venivano a barattare a Spiano quando non c'era la moneta. Allora io sto utilizzando questo sentiero per quanto riguarda le escursioni a cavallo. Ripeto, sono istruttore di primo livello di monta inglese, faccio equitazione, io posso dare solamente per quanto riguarda l'equitazione, posture e gestione del cavallo. Altro non posso fare perché purtroppo non sono abilitato a dare altri brevetti per quanto riguarda l'agonistica. Io sono solamente istruttore di equitazione di campagna. E poi ho questo maneggio, questi cavalli, vengono dei bambini, si fa approccio al cavallo. amici un cuore. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.